Ciao Chiana, ci vediamo domani per gli altri contratti. Oh, Paco. Ehi Ciccio, anche tu qua. Ah, sei venuto a pagare le bollette. Mi ha chiamato Paolo per una collaborazione tecnica con l'ufficio di Noi Energia. E tu, Paco? Io ho aperto un franchising con No Energia, ma scusa, fallo anche tu. Non sei un installatore di caldaie e condizionatori? Certo. E' facile, pensaci Ciccio. Se sei anche tu un installatore di caldaie e climatizzatori, fai la scelta giusta. Unisciti a Noi.